Passiamo allo sport con l'Orienteering. Successo Trentino con i gemelli primi erotti Zagonel, Viola e Giacomo nell'ultima gara sprint di Coppa Italia in provincia di Pistoia. Il servizio di Gianfranco viene in casa. Con le gare di Doganaccia, stazione scistica dell'Appennino in provincia di Pistoia, cala definitivamente il sipario sulla mini stagione dell'orientamento causa pandemia. Il finale regala una splendida affermazione nella gara sprint ai fratelli Zagonel, Trentini del Primiero. Viola, polisportiva a Masi, col tempo di 17 primi e 53 secondi, ha vinto tra le ragazze. Giacomo, unione sportiva a Primiero in 18.37, ha sbaragliato la concorrenza in campo maschile. È la prima volta da quando gareggiano in Elite che i due gemelli salgono sul gradino più alto del podio contemporaneamente. Davvero un risultato incredibile. La prova, che ha visto al via 450 concorrenti, si è svolta nel massimo rispetto della normativa anti-covid. Al secondo posto, tra i maschi, Sebastian Inderst, PVT Italia in 19.02 e poi Michele Caraglio, Agorosso, col tempo di 19.28. Quarto, un altro Trentino, Fabiano Bettega, GS Pavione. Tra le donne, con un certo divario, sono salite sul podio le altoattesine Cristine Kirchlechner, Merano e Verena Troi, Terlano. Vincere è sempre bello e farlo con mio fratello gemello ancora di più. Sì, una grande soddisfazione, non capita spesso e quindi c'è da festeggiare.